All'incontro organizzato da Sustainability Makers e Avanzi abbiamo discusso ampiamente del tema del rapporto tra imprese e territorio. Credo che la pandemia abbia fatto riscoprire a molti valore e l'importanza della prossimità nelle nostre comunità. Il tema è quello di come attivare collaborazioni efficaci tra mondo delle imprese, che è molto variegato al suo interno e diverso nei diversi contesti, fondazioni di imprese, terzo settore, settore pubblico, enti locali e comunità locali. Questa è la vera sfida per lo sviluppo locale e la rigenerazione urbana efficace. Credo che i temi emersi siano due. Uno, come creare un dialogo reale tra soggetti, come capirsi e conoscersi. Ognuno di questi mondi ha le sue caratteristiche, i suoi linguaggi, i suoi modi da agire e bisogna innanzitutto capire come si può lavorare insieme. E secondo, penso che sia fare cose insieme, cioè essere concreti e iniziare proprio delle progettualità generative sui territori che dimostrino che la collaborazione produce un effetto positivo in termini di incremento della sostenibilità ambientale, dell'inclusione sociale e dell'attrattività dei territori.